Uè testolina! Te lo sai cos'è la USP? USP! U-S-P! La P la vedi? Ma è sentita! Ma che roba è! Si fuma? La Unique Selling Proposition è una frase che descrive in maniera semplice e chiara ai tuoi potenziali clienti chi sei, cosa offri e in che modo ti differenzi dagli altri La Unique Selling Proposition può essere creata seguendo una formula specifica Eccola qua, te la scrivo L'azienda, il blogger, il tuo nome, il tuo brand, primo elemento Aiuta, nome della tribù, cioè tutti coloro che, quale gruppo di persone, la tribù a risolvere un certo problema, ad apprendere una certa cosa ad imparare a fare qualcosa di particolare, attraverso e qua dovrai mettere il tuo modo, la tua soluzione, il tuo tool, strumento, servizio, prodotto che aiuti i tuoi clienti a risolvere quel problema, a imparare quella cosa Esiste anche la possibilità di aggiungere o di sostituire a questo attraverso Il luogo, il posto dove fai quello che fai Perché spesso questo è un elemento totalmente caratterizzante per aiutare a differenziarti dagli altri concorrenti Del tipo che se sei raggi del sole, brand, aiuta le donne a essere più belle in meno di un'ora Questo potrebbe essere la unique selling proposition di un centro estetico ovunque Ma se poi ci aggiungo invece dell'attraverso un appiacenza È chiaro che ho radunato in una frase gli elementi che caratterizzano e differenziano il mio servizio da quello degli altri Facciamo degli esempi concreti? Dai! Allora, prendiamo per esempio il sito di Raffaele Costi Imparare giocando, brand, quindi è imparare giocando Aiuta, quale tribù? I genitori A fare che cosa? A far apprendere le materie scolastiche Come attraverso cosa? Attraverso i giochi Dove? No, non è necessario Quindi, imparare giocando aiuta i genitori A far apprendere le materie scolastiche ai propri figli Attraverso i giochi Questa è la unique selling proposition di imparare giocando Proviamo a farla per i nomadi digitali Nomadigitali.it Aiuta coloro che vogliono viaggiare e scoprire il mondo A poterlo fare attraverso l'utilizzo di internet Robin Good Robin Good aiuta chiunque a fare che cosa? A diventare un punto di riferimento credibile Attraverso la condivisione gratuita di contenuti di valore Dove? Della sua nicchia di mercato online Questa è la unique selling proposition O unique value proposition Perché è così importante? Perché ti aiuta a comunicare istantaneamente a chiunque cosa fai Cosa offri A chi lo offri e perché sei diverso dagli altri Unique selling proposition Prova a buttare giù la tua A chi lo offri e perché sei diverso dagli altri Prova a buttare giù la tua Buon あ Danny Prova a buttare giù la tua